Buonasera. Buonasera, Mario De Janeiro ha fatto edizione? Certamente. Allora dica, 33 trentini entraranno in Trento tutti a 33 trotterellando. E che ti dico, una certa quantità di abitanti del Priuri che tornano a casa felici e contenti. Per me è sufficiente così. Anche per me. Every day I die.